Da questo giovedì su Fox, Glee ritorna con un doppio appuntamento. Volete sfottermi? Sì, avete capito bene. Due episodi, uno di seguito all'altro nella stessa serata. Lo sapevate tutti tranne me? Alle 21 in prima assoluta l'episodio in italiano. Eccellente! E alle 21 e 50, a poche ore di distanza dagli Stati Uniti, il nuovo episodio in versione originale sottotitolata. Save the date! Si va in scena! Glee, i nuovi episodi. Da questo giovedì, dalle 21 su Fox. Grazie a tutti!